No, ma che faccia lì? Cioè, veramente, cioè, fatemi capire, faccio questo short solamente perché gli amici bellini mi chiedono Ma, Paola, devi parlare! Ma già ho parlato! L'unica cosa che non ho detto nel video di stamattina, e che l'ho detto su Twitter e su Instagram Povero Dan Donker! Cioè, immaginate la confusione in cui stanno, si stanno allenando, stanno preparando un ottavo di Champions League, i giocatori del Napoli, cioè, si è visto Simen all'uscita dall'allenamento, allora, I don't know, non lo so, non ho proprio idea Nessuno ha idea! A me Calzona piace per una serie di motivi che ho spiegato nel video, andatevelo a vedere E domani ne sapremo di più perché ci deve essere conferenza, immaginate fare una conferenza pre-partita in stile meluso Perché poi, che domande gli fai a Calzona? Dici, io sono appena arrivato, non lo so, è solo una risposta che ti può dare Voglio sperare che, essendo abituato alla nazionale, uno che, quindi, non deve avere per forza una preparazione Con una squadra, va, conosce bene o mai, chiede all'obot, più o meno, chi so che è meglio E mette un po' in autogestione la squadra Non ci doveva fare boh! Convinto che dovevi fare ammazzare l'ultima partita e poi cambiavi! Ora mai!